seduti con la schiena ben aderente al cuscino della macchina afferrate le apposite impugnature con le mani in posizione prom il sedile posizionato in modo che le impugnature siano a livello della parte centrale del pettorale spingere in avanti fino alla quasi completa estensione delle braccia dopo un attimo di contrazione muscolare ritornare lentamente alla posizione iniziale la respirazione espirate durante la fase dello sforzo e di spinta dei pesi ispirate durante la fase di ritorno alla posizione iniziale grazie 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 Grazie.